buongiorno ragazzi di seconda a questa è una video lezione di storia stiamo studiando i moti dell'europa e moti che sorgono a seguito della repressione attuata dopo il congresso di vienna dalla santa alleanza in tutta l'europa moti voluti soprattutto dalla borghesia intellettuale colta di idee liberali borghesia che chiede maggior voce in capitolo chiede libertà chiede diritti e abbiamo visto come i moti del 20 i moti ad esempio in piemonte guidati da santorre di santa rosa e furono sconfitti e abbiamo anche parlato della carboneria e abbiamo visto le cause del fallimento della della carboneria bene l'unico moto degli anni venti che invece ebbe andò in porto e riuscì nel suo intento fu quello della grecia infatti la grecia dal periodo dalla caduta di costantinopoli e dalla conquista di costantinopoli da parte dell'impero ottomano faceva continuava a far parte dell'impero ottomano ecco che i moti dei borghesi liberali ottengono l'appoggio di buona parte della popolazione che dopo tre secoli dopo più di tre secoli di dominio turco vuole riavere l'indipendenza e nel 1821 quindi scoppia la rivolta in grecia contro l'impero ottomano e rivolta che però questa volta è appoggiata da alcune potenze europee e oltretutto come dire gode delle simpatie dell'opinione pubblica europea infatti ad esempio alcuni intellettuali europei come lord byron famosissimo poeta inglese del romanticismo o come il conte piemontese santorre di santa rosa implicato nel nella rivolta del venti in piemonte e occorrono accorrono in grecia e personalmente si mettono a combattere loro a fianco del popolo insorto se prendete pagina 300 potete vedere la foto di un quadro nel quale è rappresentata la scena di una battaglia tra i greci tra i greci e i soldati turchi la grecia ottenne anche l'appoggio dell'inghilterra della francia e udite udite della russia come direte voi perché della russia la russia non faceva parte della santa alleanza insieme alla all'austria e la prussia che interesse poteva perché adesso questo cambiamento perché adesso appoggia i moti liberali della grecia perché la russia in realtà sperava di poter controllare la grecia lei e in questo modo avere un accesso uno sbocco al mar mediterraneo e questo ovviamente non fu detto in maniera esplicita ma la motivazione adotta esplicitamente dal dallo zar era che bisognava aiutare i fratelli ortodossi della grecia abbiamo studiato in geografia la russia e la grecia e nel nel quiz vi ho posto una domanda che cosa hanno in comune questi due stati e così diversi e giustamente la maggior parte di voi ha indicato come risposta corretta la religione ortodossa ora con la scusa col pretesto della di aiutare fratelli ortodossi della grecia allo zar alessandro primo si dimentica i propositi di ripressione dei moti da parte della santa alleanza di cui lui stesso fu promotore e interviene militarmente accanto agli insorti greci con loro combattono anche la francia e l'inghilterra che hanno i loro interessi commerciali economici nel mar mediterraneo e quindi possono solo trarre beneficio da una come dire da una sconfitta da una diminuzione di potere da parte dell'impero ottomano e che fossero questi realmente gli interessi di francia e inghilterra lo dimostra l'esito della guerra infatti quando finalmente nel 1829 la grecia può proclamare la sua indipendenza dall'impero ottomano diventa un protettorato delle potenze europee che cos'è un protettorato ve ne avevo già parlato avevo già avuto modo di parlarvene il protettorato è un territorio sotto il controllo di un altro stato quindi quasi una colonia quasi non è una vera e propria colonia come quelle che la spagna possedeva in america latina ma è un territorio comunque diciamo indipendente si con un proprio governo eccetera però comunque sotto il controllo quindi non è realmente libero di altre potenze bene la grecia diverrà proprio un protettorato delle potenze europee tanto che addirittura verrà imposto non verrà fatto scegliere ai greci chi vogliono che stia sul trono chi vuole chi volessero che che stesse sul trono ma viene imposto un sovrano un re di origine tedesca nella foto a pagina 300 vedete un ritratto del famoso poeta inglese lord byron che che morì combattendo a fianco ai greci la stessa cosa avvenne per santorre di santorre di santarosa il piemontese conte santorre di santarosa morì combattendo in grecia bene quindi possiamo dire che i moti del 20 hanno comunque successo in europa l'unico punto l'unico paese europeo nel quale effettivamente hanno avuto successo è la grecia e per la verità sempre nel 20 scoppiano delle rivolte dall'altra parte dell'oceano nell'america del sud se infatti vi ricordate quando abbiamo studiato i moti del 20 in spagna vi ho detto che partono da un gruppo di soldati che erano stati assegnati a domare la rivolta nelle colonie americane questi soldati che avrebbero dovuto imbarcarsi per l'america e combattere contro le rivolte dei delle colonie americane e invece si erano poi ribellate a a ferdinando e avevano chiesto la costituzione di cadice bene ma cos'erano queste rivolte in america sì perché se vi ricordate ragazzi noi abbiamo studiato che siamo sappiamo che tutta l'america del sud è sotto il controllo della spagna e del portogallo in parte il brasile è sotto il controllo del regno del portogallo mentre il resto dell'america centrale e meridionale quindi non so messico colombia peru ecuador e bolivia cile tutto tutto il resto è sotto il controllo della spagna benissimo scoppiano queste rivolte per ottenere da le colonie vogliono l'indipendenza dal dall'europa esattamente come meno di cent'anni prima la voleva l'avevano voluta e ottenuta gli stati uniti le colonie del nord america dall'inghilterra divenendo stati uniti bene la stessa cosa succede in america latina vogliono l'indipendenza e per e sognano molte di loro sognano che possa nascere nel sud america una federazione di stati sud americani esattamente come nel nord america sono nati gli stati uniti e vediamo come vanno queste rivolte queste rivolte anche queste rivolte vanno in porto riescono perché perché ottengono ancora una volta il sostegno militare di altre potenze europee cioè dell'inghilterra l'inghilterra che meno di cento anni prima e aveva combattuto per per reprimere per contrastare le colonie americane che le chiedevano in indipendenza adesso invece si schiera a fianco degli insorti sud americani insorti vuol dire ribelli che fanno l'insurrezione perché perché il suo obiettivo è quello di diminuire di combattere la spagna nei suoi traffici economici commerciali voi sapete appunto che c'era tutto un commercio importantissimo di merci dall'america latina in europa e quindi ad esempio prodotti pregiati allora pregiati come il cacao lo zucchero di canna il caffè il tabacco il cotone venivano dal sud america e bene e questi questi prodotti facevano sì che la spagna avesse ancora un ruolo molto importante a livello mondiale nel commercio il ruolo che l'era invidiato dall'inghilterra quindi l'inghilterra appoggia i rivoltosi sud americani perché vuole danneggiare economicamente la spagna ma c'è un'altra potenza che li appoggia che appoggia i coloni sud americani in rivolta contro la madre patria spagna o il portogallo gli stati uniti gli stati uniti si schierano a fianco dei dei sud americani dei loro vicini di casa voi penserete che l'avranno l'avranno fatto per nobili motivi certo a livello di stampa di popolo fu la motivazione fu diciamo il motto divenne la frase del presidente degli stati uniti che c'era allora morro è scritto james morro è il quale disse l'america agli americani cioè fuori l'europa dagli interi dal dall'america dal continente americano via giù le mani dal continente americano l'america aspetta gli americani e questa frase come dire come dire illuse di un generoso come da parte di un generoso cioè che ci sarebbe stato un generoso aiuto da parte degli stati uniti ai sud americani in realtà questa frase andava in tese in un altro senso e morro era in realtà molto chiaro su questa cosa perché morro sosteneva che il sud america fosse fosse il cortile degli stati uniti della casa degli stati uniti cioè praticamente lui semplicemente voleva mettere le mani su sud america perché sud america era importantissimo nel commercio internazionale anche lui vuole mettere le mani su di esso quindi nascono questi in poco tempo sorgono in questo decennio fra il 20 e 30 vari stati indipendenti come potete vedere dalla cartina di pagina 301 e sorgono argentina cile bolivia perù messico brasile tutti in pochi anni in pochi anni quindi nell'america centrale e meridionale sorgono una serie di una serie di stati indipendenti questi stati vorrebbero a un certo punto unirsi in una federazione sud americana esattamente come hanno fatto le colonie del nord che si sono unite negli stati uniti d'america ma 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 questo loro sogno non si realizza mai anche perché gli stati uniti lo ostacolano perché gli stati uniti non vogliono che in sud america sorga sorgano sorga una federazione altrettanto potente che magari faccia loro concorrenza preferiscono che rimangano divisi in tanti stati magari in contrasto in contrasto fra di loro possibilmente come vedete sempre dalla cartina di pagina 301 soltanto a cuba e in dei piccoli territori sopra il brasile che si chiamano guiana rimane il controllo europeo quindi cuba appartiene continua ad appartenere alla spagna mentre le guiane sopra il brasile appartengono una all'olanda una alla francia e una alla gran bretagna bene ma continuano continua la repressione della libertà da parte della santa alleanza nella in europa ed ecco che passano dieci anni quindi abbiamo visto i moti del venti in europa passano dieci anni e scoppia un'altra insurrezione dove scoppia in francia la francia è di nuovo in rivoluzione in rivolta perché perché finora loro hanno dopo dopo la parentesi napoleonica era ritornato al potere luigi diciottesimo ricordate abbiamo detto che era stato rimesso sul trono dal congresso di vienna luigi diciottesimo cioè il fratello del ghiottinato luigi diciottesimo e cosa succede che per la verità luigi diciottesimo e aveva anche concesso una costituzione molto moderata per cercare di tenere più a bada la borghesia francese e però in realtà lui era un sovrano assolutista era questa la sua idea e poi negli anni aumentò il suo potere il potere suo e della e dell'aristocrazia seguì dopo salì al potere dopo lui carlo decimo il re carlo decimo e carlo decimo fu proprio da subito un sovrano assoluto che prese subito una serie di iniziative per riportare proprio la francia all'anzien regime quindi ad esempio vietò con una serie di leggi chiamate ordinanze le quattro ordinanze vietò ad esempio la libertà di stampa la libertà di potersi riunire per poter discutere sciolse inoltre il parlamento e stabilì che dovevano esserci nuove elezioni e però però ridusse ancora di più il numero degli elettori già gli elettori abbiamo già prima abbiamo detto che era un che c'era in francia un suffraggio censitario cioè ragazzi si votava in base al proprio reddito in base al proprio esè diremmo oggi lui cosa fa per garantirsi un parlamento che rispecchiasse la sua visione riduce ancora di più il numero di elettori possono votare soltanto 25.000 persone su tutta la Francia prima erano 100.000 e a questo punto è tranquillo che vengano elette delle persone con una visione che rispecchiasse la sua è un'altra